L'autoriforma è invece l'apertura di un processo che già vive nelle pratiche del movimento è un passaggio di consolidamento delle forme di autorganizzazione e un rilancio degli elementi di conflitto. L'unica verifica per questo processo è la capacità di tradurre da subito l'autoriforma in concreti elementi di programma e che la potenza e l'intelligenza collettiva dell'onda si è incarnata di questi due giorni di discussione del processo costituente avviato da cui rappresentabilità esterna e interna è la nostra bussola. Da un lato consolidare l'autonomia dell'università che stiamo costruendo attraverso l'opriforma. Questa settimana ha espresso forza, radicalità e intelligenza nelle aule dei nostri dipartimenti e per le strade delle nostre città entra ora in una seconda fase una fase costituente. Ad agosto è stata approvata la legge 133 del Parlamento una finanziaria che in cinque anni sottrae un miliardo e mezzo di euro al fondo di finanziamento ordinario dell'università pari a circa il 20% degli attuali fondi. Inoltre si permette agli atenei pubblici di trasformarsi in fondazioni di diritto privato e nei prossimi cinque anni il turnover sarà bloccato al 20% ovvero sarà stabilizzato al più un ricercatore ogni cinque docenti che andranno in pensione. Già a partire da settembre negli atenei italiani la percezione della gravità di questa legge e delle sue conseguenze si era diffusa capillarmente sia tra gli studenti sia tra ricercatori e docenti. In tempi rapidissimi l'esigenza di approfondimento ha determinato un proliferare di assemblee e gruppi di studio in tantissime facoltà italiane su un piano di orizzontalità che scarpini gli attuali meccanismi corporativi e baronari. Per questo vogliamo cominciare a praticare un'autoriforma dal basso. Un modello di autoriforma proposto realmente dal basso presuppone un effettivo ingresso in una società della conoscenza. Noi siamo i giovani i giovani più giovani siamo l'esercito l'esercito del sol Noi siamo i giovani i giovani più giovani siamo l'esercito l'esercito del sol Questo movimento è un movimento speciale, un movimento che ogni volta che passa una legge del governo, un nuovo provvedimento, un buone viene presentato, invece così di nemmeno il riflusso aumenta e si allarga. Questo è un movimento che mostra che questa società ha degli anticorpi, siamo il primo fronte di opposizione sociale al governo Berlusconi e noi ci dobbiamo fare modere di questa responsabilità perché l'onda deve raccogliere tutte le parti sociali in gioco. L'onda è nata dalla scuola e dall'università e con la scuola il nostro rapporto è imprescindibilmente legato. Noi siamo le istituzioni, noi rappresentiamo l'istituzione pubblica dove si trasmette cultura, dove i bambini leggono i cani, noi siamo il movimento che rappresenta la ricerca pubblica in questo paese. Noi siamo i giovani, i giovani più giovani, siamo l'esercito, l'esercito del sol. Noi siamo i giovani più giovani, noi siamo l'esercito, l'esercito del sol. Ma che cosa c'è? Val insieme a me, val insieme a me, e vedrai che poi, e vedrai che poi, ti passerà. Mi vuoi dir perché? Mi vuoi dir perché? Non sorridi più, non sorridi più. Val insieme a me, val insieme a me, poi ti passerà. Noi siamo i giovani, l'esercito del surf. Noi siamo i giovani, l'esercito del surf. L'esercito del surf.